Don Zelli, mi sono dimenticato, prego. Grazie Presidente di essersi dimenticato, no, a parte gli scherzi, può succedere. Sì, perché non era iscritto, le ho detto si può iscrivere anche se è stato all'ultimo, prego. La ringrazio Presidente. Allora, io volevo e parlerò di questioni molto concrete che sono accadute nelle ultime ore. Credo che questa maggioranza, questo Governo, sia bene che si occupino di questioni concrete, perché se devono parlare di storia abbiamo sentito oggi gli strafalcioni per cui Atena Men era colpa del fascismo e non si è sentito una sola condanna del comunismo per piazza Atena Men. Quindi arriviamo ai paradossi più assurdi del mondo. Ma siccome bene o male, invece, sulle cose concrete bisogna dare risposte, forse non bisogna andare a studiare la storia di qualche anno fa o anche semplicemente la cronaca, potreste arrivare a comprendere che in queste ore c'è stato un disastro ambientale gravissimo che ha coinvolto molte regioni d'Italia. Io sono qui a specificare invece la Toscana, dove nella montagna pistoiese sono state distrutte tutte le piste da sci, le strade sono franate, colline intere, in Garfagnana ci sono dei danni enormi. Sono qui a chiedere alla maggioranza e al Governo, visto che ormai non c'è più possibilità per i parlamentari di presentare emendamenti per il cosiddetto decreto rilancio, siamo a chiedere al relatore di presentare degli emendamenti a rilancio per trovare i fondi per andare incontro ai territori in queste ore distrutti dall'emergenza ambientale. Perché se in un Paese, in un Comune, le attività economiche già devono lottare per la sopravvivenza in seguito al virus, già penso a molti operatori turistici che in quelle zone già hanno il dubbio se aprire o non riaprire, nel momento in cui cronano le strade, si distruggono le piste da sci e franano le colline intere, se non andiamo a intervenire lì abbiamo sicuramente la morte economica di quel territorio. Sono quindi a chiedere alla maggioranza e al Governo di presentare un emendamento al rilancio su questo tema per aiutare tutte le zone colpite e devastate dai disastri ambientali di queste ore. Se farete questo emendamento, noi come Fratelli Italia saremo pronti su questo emendamento a darvi il vostro sostegno per tutelare i nostri territori.